Una piena assunzione di responsabilità da parte di poste italiane sui disservizi che per oltre due mesi hanno messo in ginocchio Sapri e il Golfo di Policastro. E quanto è emerso nel summit a Palazzo di Città tra il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, il responsabile dei servizi postali di Campania e Calabria, Roberto Arcuri, ed il responsabile del recapito per le province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, Luigi Marcelli. Per il gruppo, oltre alle difficoltà causate dalla malattia di alcuni postini, è mancata la catena di controllo degli addetti, ma tutto ciò non giustifica la gravità di quanto accaduto. Arcuri e Marcelli hanno confermato al sindaco e dal segretario dello SPI CGL Gerardo Triani, presente anche egli all'incontro, l'annullamento di tutta la giocenza nel centro di smistamento, ovvero per poste italiane, il ritorno alla normalità in tempi brevissimi a Sapri, negli altri 17 centri del Golfo di Policastro e del Basso Cilento, che fanno capo all'ufficio di Piazza Marconi. I due delegati di poste italiane hanno anche garantito che monitoreranno in maniera più attenta lo smistamento su Sapri.